Cosa rappresenta per te? No, scherzavo, non mi ricordo la domanda. Posso tagliare il video? Fai una domanda nel momento. Cosa significa per te la scrittura? Scrivere per me significa costruire un mondo e un universo che sia poi capace di spiegare quello nel quale viviamo. Quindi significa rielaborare la realtà per cercare un senso nelle cose.